Non avrà una scadenza ma sarà a tempo indeterminato l'ordinanza che restringe gli orari di chiusura dei locali in zona universitaria, il giro di vite riguarda via Petroni e dividerà la strada in due parti, pugno di ferro contro i trasgressori. Avviso di fine indagine per la tragedia del piccolo David Berghi, il neonato morto di freddo a Bologna il 5 gennaio scorso, coinvolti due genitori e due assistenti sociali che secondo la procura avrebbero sottovalutato la gravità. Meglio il ritorno dell'ICI che inasprire l'IRPEF, il sindaco Merola commenta così l'ipotesi del governo Monti di reintrodurre la tassa sulla prima casa che colpirebbe in proporzione chi ha redditi più alti. Ci sono anche quattro immigrati residenti a Bologna nella rete di subagenti abusivi scoperti dalla Guardia di Finanza di Modena e impegnati nel trasferimento illegale di denaro all'estero tutte le transizioni sfuggivano agli obblighi fiscali. Nuova rapina a Bologna, presa di mira una tabaccheria in via del Pratello, nel centro cittadino due banditi hanno fatto irruzione nel locale e minacciando la titolare con un cutter sono fuggiti con alcune ricariche telefoniche. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. Questa mattina è stata presentata la tanto discussa ordinanza comunale che riguarda e prevede la modifica degli orari di chiusura in via Petroni. Confermate le differenze di zona ma non la scadenza del provvedimento che a questo punto sarà a tempo indeterminato. Ci informa su tutti i dettagli Massimo Ricci. Battesimo di sabato sera, serata clou della Movida per la nuova ordinanza sugli orari di via Petroni dove il degrado e il rumore hanno reso invivibile la strada per molti residenti. Oggi il sindaco ha reso nota la versione definitiva del provvedimento. La strada sarà geograficamente divisa in due. Pugno di ferro per la zona più vicina a Piazza Verdi. Alimentari, pizzerie da sporto e kebab dovranno chiudere non oltre le 20, mentre per pub e bar serrande chiuse già alle 23. Mano un po' più leggera per i locali dalla parte di via San Vitale. Restano le 20 l'orario limite per gli alimentari ma pizzerie da sporto e kebab potranno arrivare fino alle 22, mentre i pub potranno avere una deroga fino a luna di notte previo impegno specifico sul rispetto delle regole. È un intervento severo che risponde a una situazione di emergenza nota da troppo tempo e che va affrontata. In particolare il tema dei bivacchi, il tema dell'abuso di alcol che coinvolge troppi giovani, anche minorenni, e il tema del diritto a riposo non ultimo dei residenti. Merola precisa che l'ordinanza per via Petroni non sarà un caso pilota ma un caso isolato perché non è quello l'approccio dell'amministrazione con la città. Contrariamente a quanto emerso dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, poi il nuovo regolamento sarà a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento se dal monitoraggio che partirà da subito emergerà la necessità di emendare. Infine le multe, per chi non rispetta gli orari, vanno da 300 a 500 euro. Dalla quarta violazione poi scatta la sospensione dell'attività da un minimo di tre giorni a un massimo di 30. E torniamo a parlare di un caso che fece molto discutere poco più di un anno fa, la morte del piccolo David Berghie a Bologna. La procura ha aperto un'inchiesta e oggi sono arrivati gli avvisi di fine indagine che solitamente preludono ad un rinvio a giudizio. Secondo il PM dunque avrebbero responsabilità del gravissimo fatto sia i genitori sia i due assistenti sociali che all'epoca si occuparono del caso. Marco Rossi. Faceva freddo quei giorni di gennaio, freddo e pungente come può essere l'inverno bolognese. Una situazione difficile per due bambini appena nati, figli di una coppia disagiata, Sergio Berghie e Claudia Gambato, che appena 20 giorni prima aveva dato alla luce due gemelli. La morte di uno dei due, il piccolo David, stroncato da una polmonite alla vigilia del giorno dell'epifania, fu uno shock per Bologna, città da sempre all'avanguardia dei servizi sociali. Seguirono dubbi, dolore, polemiche e affannose ricerche di responsabilità. Ora la procura ha emesso quattro avvisi di fine indagine, due riguardano propri genitori, che secondo i magistrati non avrebbero prestato al piccolo David, nato prematuro il 13 dicembre 2010 e dimesso dal Sant'Orso nel 29 dicembre, le necessarie cure di accudimento primario e tutela della salute, provocando così la morte dovuta a severa ipotermia. Al momento delle dimissioni, secondo quanto è stato ricostruito, ai familiari era stata data una profilassi consistente nell'uso della mascherina, nell'evitare contatti con bimbi e adulti raffreddati, nel non frequentare luoghi affollati e nel procedere al vaccino anti-influenzale per tutto il nucleo familiare. I genitori però sarebbero rimasti negligentemente indifferenti rispetto alle prescrizioni imposte, trasportando i gemelli all'aperto tutti i giorni tra il 29 e il 4 gennaio, nonostante il freddo e con abiti rimediati frequentando luoghi aperti al pubblico, la sala borsa e girovagando. Inoltre avrebbero in più occasioni rifiutato l'aiuto offerto, un alloggio dove tenere al caldo i bimbi. Ma secondo la procura ci sono altre responsabilità. L'assistente sociale del quartiere Santo Stefano, ad esempio, incaricata della presa in carico della madre, avrebbe omesso di richiedere maggiori informazioni, non acquisendo gli elementi informativi necessari e quindi non attuando le cautele necessarie alla condizione di senza fissa dimora della famiglia. E nonostante fosse stata avvisata dello stazionamento in sala borsa della coppia con i gemelli, non avrebbe avviato urgenti verifiche sulla situazione, non valutando la concreta pericolosità della situazione stessa. E poi anche l'allora responsabile dei servizi sociali area famiglia e minori del quartiere Santo Stefano, sempre secondo l'accusa, sebbene avvisata avrebbe fatto una valutazione errata della gravità del pericolo in cui versavano i neonati. Una tragedia che ha creato un forte campanello d'allarme, stiavo lavorando per cambiare le procedure, ha detto oggi il sindaco Merola, difendendo però il ruolo degli assistenti sociali, persone che danno molto a questa città. E cambiamo argomento, mentre a Roma il nuovo governo sta mettendo a punto la serie di provvedimenti economici per onorare gli impegni europei, a Bologna il sindaco Virginio Merola ha detto di preferire la reintroduzione dell'ICI, la tassa sulla casa, al posto di un ritocco dell'IRPEF. Vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. Meglio la reintroduzione dell'ICI che il ritocco dell'IRPEF. Ancora non sono note le misure economiche che saranno adottate dal governo Monti, ma il sindaco di Bologna, Virginio Merola, non ha dubbi a Bologna. L'esenzione ICI riguarda 90.000 cittadini, mentre un ulteriore intervento sull'IRPEF si inserirebbe in un quadro di ingiustizia. Il primo inquilino di Palazzo da Cursio ne ha parlato questa mattina, a margine di un convegno, aggiungendo di aspettarsi molto dal governo Monti, che dovrà prendere misure di rigore, ma che puntino anche alla crescita. Sarà importante che tutte le forze presenti in Parlamento assicurino un adeguato sostegno, ha aggiunto Merola, per il quale è necessario tornare a porre attenzione ai temi degli enti locali e delle autonomie. Una questione che richiama quella dell'abolizione delle province. Alla precisa domanda, il sindaco ha risposto che la parola abolizione crea confusione. Si tratta di prefigurare enti di secondo grado non più frutto di un'elezione diretta, un'impostazione più comprensibile che fornisce ai sindaci il potere di governare il proprio territorio su scala più vasta. Singolare protesta del consigliere comunale del PDL Michele Facci durante il question time che si è tenuto questa mattina e intervenuto con la maschera del Drago Ribelle per protestare contro la recente assegnazione di nuovi spazi al gruppo di indignati. Vediamo allora le interviste realizzate proprio questa mattina da Giuseppe Piloni all'assessore Matteo Lepore e anche allo stesso Facci. Vediamo. Addirittura c'è stata la simpatica foto del sindaco con la maschera a sancire quasi la fratellanza con i draghi ribelli. Che cosa ha portato questo negoziato? Ha determinato che questi signori hanno ottenuto un immobile in via San Vitale? Ecco, Michele Facci oggi si è presentato in consiglio comunale con un abbigliamento originale, diciamo. Sì, è una forma di protesta rispetto alle concessioni che questa amministrazione ha fatto sul fronte della legalità e della sicurezza. Il sindaco aveva annunciato la linea della legalità e in realtà ha ceduto di fronte a queste occupazioni, i cosiddetti draghi. Allora ho chiesto al sindaco se portare la maschera da Drago, vestirsi in modo casual, portare megafoni e comunque protestare, alzare la voce, è un lascia passare per poter ottenere concessioni da parte dell'amministrazione comunale in violazione di norme, in violazione di regolamenti. Questi signori hanno avuto uno spazio che altrimenti non sarebbe stato dato, uno spazio pubblico senza passare da bandi, senza passare da nessun tipo di... violando le regole che ci sono per la concessione alle associazioni di spazi e di immobili. Assessore Lepora, le opposizioni vi attaccano sull'assegnazione della nuova sede agli indignati, abbiamo visto anche questo show di facci, lei cosa risponde? Appunto che certe persone si candiderebbero in consiglio comunale solo per avere 5 minuti di celebrità. Noi abbiamo risolto una situazione che in altre città durata mesi guardiamo all'estero, con sgomberi, occupazioni, interventi anche della polizia molto duri. In 4 giorni la questione dell'occupazione a Bologna al momento si è risolta. Nel caso del mercato di mezzo in cui il Comune aveva la responsabilità anche sanitaria e di sicurezza per le persone dentro, siamo intervenuti con un'ordinanza di sgombero e abbiamo dialogato per far uscire i ragazzi. Due rapinatori, uno armato di un cutter, hanno preso di mira la tabaccheria Smoke di Via del Pratello nel pieno centro di Bologna. Hanno fatto irruzione nel negozio nel tardo pomeriggio di ieri e minacciando con il taglierino la titolare hanno poi aperto uno dei cassetti dietro il bancone. All'interno non c'era l'incasso ma solo alcune ricariche telefoniche. I due si sono accontentati di quello e poi sono fuggiti in sella ad uno scooter. La tabaccaia, uno bolognese di 64 anni, ha poi dato l'allarme alla polizia. Ci sono anche quattro immigrati residenti a Bologna nella rete di subagenti abusivi scoperti dalla Guardia di Finanza di Modena e impegnati nel trasferimento illegale di denaro all'estero. Tutte le transazioni però sfuggivano agli obblighi fiscali. Vediamo il servizio di Federica Galli. L'hanno già ribattezzata Operazione Matrix, dopo due anni di indagini, la Guardia di Finanza di Modena ha bloccato il money transfer degli spacciatori e dei Vucumpra. In particolare i finanzieri hanno individuato un intermediario con sede a Londra che operava su un gran parte del territorio nazionale in maniera completamente abusiva, consentendo ad altri stranieri di trasferire denaro per riciclaggio o per finanziare traffico di armi nei paesi in guerra. L'unico contatto con l'Italia era un conto corrente in cui venivano versate le somme di denaro da trasferire verso l'estero. Anche la rete di subagenti che offrivano il servizio era articolata e ben radicata. La rete operava in sei regioni e 15 province, di cui 7 in Emilia-Romagna, fra cui spiccano Modena, Bologna e Reggio Emilia. Complessivamente sono stati denunciati 47 soggetti, tutti ganesi e nigeriani, per il reato di abusiva attività finanziaria. Sono state effettuate 70 perquisizioni, mentre è di 34 milioni di euro il volume accertato delle illeciti transazioni di valuta verso l'estero. A Modena aspetta il primato per la gente più produttivo con oltre 12 milioni di euro di somme illecitamente esportate. Questa rete ovviamente operava sul territorio nazionale senza averne i requisiti, quindi in modo completamente illecito ed abusivo, e soprattutto non adempiendo agli obblighi antiriciclaggio che sono attualmente previsti dall'ordinamento giuridico. Mi riferisco in modo particolare agli obblighi di identificazione, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette. Ovviamente sarà nostra preoccupazione anche quella di riuscire a individuare in qualche modo anche i destinatari di queste transazioni illecite, quindi del denaro trasferito all'estero, proprio per accertare se vi siano stati anche dei finanziamenti per finalità di terrorismo o altre finalità illecite su paesi che ovviamente allo Stato devono ancora essere individuati. Ancora un raggiro ad una persona anziana a Bologna. Una donna di 83 anni è stata derubata di 100 euro da una finta incaricata di un'imprecisata associazione benefica che si è presentata nella sua abitazione di via Bondi in zona Massarenti con la scusa di un interessamento per farle avere alcuni arretrati della pensione del marito defunto è riuscita ad entrare in casa e a farsi dare il denaro che a suo dire sarebbe servito appunto per la tessera dell'associazione. Quando però la finta sindacalista le ha chiesto se in casa avesse oggetti di valore l'anziana si è resa conto di avere a che fare con una malintenzionata e si è messa proprio a gridare. A quel punto la donna si è allontanata però con in tasca già i 100 euro. Un detenuto di 48 anni colombiano si è ucciso impiccandosi nel tardo pomeriggio di oggi nella sua cella nel carcere bolognese della Dozza. L'uomo arrestato nell'ambito di un'operazione che aveva smascherato un'organizzazione di narcotrafficanti oggi aveva rifiutato l'ora d'aria e quindi era rimasto da solo nella cella che in queste situazioni viene rinchiuso a chiave. Delle indagini si occupano la squadra mobile, la magistratura, le carceri sono oramai al collasso per carenza di uomini, di risorse economiche e sovraffollamento sottolinea il SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. In Emilia Romagna ci sono 2000 detenuti in più rispetto ai posti previsti e mancano 650 agenti. A Bologna mancano 200 agenti e ci sono 700 detenuti in esubero. Il SAP ricorda che quello di oggi è il secondo suicidio in Emilia Romagna in una settimana dopo quello avvenuto all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia ed il 59esimo in Italia. Ed ora parliamo di solidarietà. La Polizia Municipale di Bologna fa una donazione all'associazione Bimbo Tu. Sentiamo allora il commento del comandante della Polizia Municipale Carlo Di Palme e poi anche quello del presidente dell'associazione Alessandro Arcidiacono naturalmente soddisfatto per quanto raccolto. Sentiamo allora il progetto e le finalità di questa donazione. L'associazione Bimbo Tu e la Polizia Municipale, una coppiata insolita ma da oggi un'unione duratura e si spera indissolubile, pronta a dare i suoi frutti anche e soprattutto per il futuro. Per ora intanto l'impegno della Polizia Municipale a favore di Bimbo Tu è un assegno di 700 euro, provento delle offerte ricavate dalla vendita dei DVD contenenti i filmati del 150esimo anniversario della Fondazione del Corpo e della ricorrenza del Santo Patrono San Sebastiano. Bimbo Tu, che già da quattro anni opera per aiutare i bambini ricoverati albellari e affetti da patologie neurologiche, ha già portato a buon fine due progetti, ovvero l'acquisto di un apparecchio per il monitoraggio della pressione endocranica e di un neuronavigatore fondamentale nel trattamento dei pazienti al di sotto dei tre anni di vita. Oggi il nuovo traguardo è il sogno di allestire con arredi e giochi le stanze di degenza pediatrica del nuovo polo delle scienze neurologiche del Bellaria. Questa volta abbiamo pensato di utilizzare tanta fatica fatta per il 150esimo e quindi immagini e materiale audiovisivo. L'abbiamo inserito in un DVD e lo abbiamo offerto ai colleghi, ai familiari, agli amici in modo che potesse finanziare questa bella iniziativa. È andata molto bene e molto rapidamente, anche devo dire, quindi speriamo anche in un secondo round. Il progetto Lucrezia sarà la nostra nuova frontiera, il nostro nuovo traguardo, l'obiettivo, il sogno che vorremmo raggiungere possibilmente entro quest'anno. Perciò aree ludiche appropriate e studiate con colori, con spazi definiti correttamente. Questo è il progetto Lucrezia che verrà dedicato appunto a Lucrezia, una bimba che adesso ci aiuta in questa avventura, è un angelo. Lucrezia è andata in cielo due mesi fa e ci ha lasciato un grande vuoto. Io spero che in questa maniera verrà sempre ricordata una bimba che ha insegnato tanto. Lucrezia. Ancora in diretta rivediamo gli argomenti del nostro telegiornale. Non avrà una scadenza ma sarà tempo indeterminato. L'ordinanza che restringe gli orari di chiusura dei locali in zona universitaria. Il giro di vite riguarda via Petroni e diventerà una strada in due parti. Pugno di ferro contro i trasgressori. Avviso di fine indagine per la tragedia del piccolo David Berghi. Il neonato morto di freddo a Bologna il 5 gennaio scorso coinvolti due genitori e due assistenti sociali che secondo la procura avrebbero sottovalutato la gravità della situazione. Meglio il ritorno dell'ICI che in esprirre l'IRPEF. Il sindaco Merola commenta così l'ipotesi del governo Monti di reintrodurre la tassa sulla prima casa che colpirebbe in proporzione chi ha redditi più alti. Ci sono anche quattro immigrati residenti a Bologna nella rete di subagenti abusivi scoperti della Guardia di Finanza di Modena e impegnati nel trasferimento illegale di denaro all'estero. Tutte le transazioni sfuggivano agli obblighi fiscali. Nuova rapina a Bologna. Presa di mira una tabaccheria in via del Pratello nel centro cittadino. Due banditi hanno fatto irruzione nel locale minacciando la titolare con un cutter. Sono fuggiti con alcune ricariche telefoniche. E parliamo adesso di un'iniziativa legata all'Associazione Nazionale Tumori creata come sapete dall'oncologo il professor Pannuti a Bologna l'assegnazione del premio Eubiosia giunto alla terza edizione. Sei aziende hanno ricevuto il riconoscimento per il loro sostegno alla Fondazione Ant. Alessia Salvatori. Anche quest'anno l'Industria Bologna ha accolto la terza edizione del premio Eubiosia Ant il riconoscimento rivolto ad aziende, fondazioni di imprese e istituzioni che nel 2011 si sono distinte per i loro interesse e sostegno verso l'attività sociale e i progetti della Fondazione Ant Italia Onlus. Ant, creata dall'oncologo professor Franco Pannuti, da oltre 30 anni fornisce assistenza sociosanitaria gratuita a domicilio ai sofferenti di tumore e offre attività di prevenzione oncologica. Oltre 3.500 sofferenti ogni giorno possono essere assistiti in modo gratuito grazie a queste aziende che si sono unite per la prima volta in un grande progetto di solidarietà. Come si comportano in questo settore gli imprenditori di Bologna, dell'Emilia Romagna, gli imprenditori nostrani, quando si tratta di solidarietà? Diciamo che proprio il DNA della persona emiliana è un DNA molto semplice, molto socievole e quindi che ben si presta a condividere delle operazioni di solidarietà soprattutto affidate a delle associazioni trasparenti come l'Ant. Sei le aziende vincitrici selezionate tra le oltre 100 candidate al premio, la Cargill Italia, l'Agenzia di Comunicazione Y2K Rimini, la Fondazione Roma Terzo Settore, Euro Ricambi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, sostenitrice di Ant da oltre un decennio, infine il gruppo Grandi Salumifici Italiani. Fino a domani in Via dei Pepoli a Bologna è in corso la mostra evento di Luce Giardini, Urban Nature Cosmic Light. Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio di Francesco Spada. Una mostra evento a Bologna di Luce Giardini. Noi stiamo calpestando dell'erba, pur essendo nel cuore del Città Storico di Bologna, due passi da Piazza Santo Stefano. Stiamo parlando dell'Urban Nature Cosmic Light. Allora intanto ne parliamo con Francesca Nanni, Face Creative Link. Allora chi siete? Cosa siete? Noi siamo un'agenzia di comunicazione di nuova concezione, diciamo. Siamo un network di professionisti della creatività che raggruppa diverse figure, non solo figure di un'agenzia classica di pubblicità, ma anche altri tipi di figure come designer, architetti, fotografi, scenografi. Diciamo che il nostro obiettivo principale è quello di produrre innovazioni, di fare eventi nuovi sia per la città che al servizio delle aziende. Cosmic Light è all'interno dello spazio ed è un'installazione di oggetti luminosi sostanzialmente, pensata per lo spazio all'interno di questo spazio e ognuna con un'identità abbastanza propria, ispirata in un certo senso dalle stelle perché sono una forza, insieme a un nucleo luminoso e quindi questi oggetti emanano forza con la luce in un certo senso. La natura urbana, quindi natura che ritorna a ripopolare la città, manca la natura nei centri storici, ma non solo natura, anche a redo urbano. Ho avuto l'opportunità di elaborare un concept per una ditta spagnola che produce prodotti in cemento prefabbricato e da questo frutto nostrano bolognese delle nostre colline, la maclura pomifera, ho ideato questo prodotto, una seduta in pietra ricomposta che riproduce la trama di questa frutta autunnale e questa è la prima presentazione a Bologna, c'è già stata una fiera a Madrid e al Madexpo di Milano e facciamo parte di questo evento off del Open Design ed è la prima volta qui a Bologna per questo gruppo. Inauguriamo il gruppo e inauguriamo anche questo nuovo locale. Ed ora la pubblicità. Ed in chiusura vi ricordo che Lega 2 e il gruppo ETV sono lieti di comunicare di avere raggiunto un accordo per la trasmissione in diretta delle partite del campionato Lega 2 Eurobet 2011-2012. ETV si affianca quindi a Rai Sport che detiene i primi diritti della stagione in corso. Le partite trasmesse in diretta da ETV avranno copertura nazionale essendo diffuse sul canale satellitare 829 del Bucca di Sky e sul digitale terrestre in Emilia Romagna Marche. di comune accordo si è scelto come collocazione la domenica alle ore 12, orario che fu già sperimentato da Lega 2 in passato. Non c'è tempo per rivedere i titoli. Grazie per averci seguito. Una buona serata.